L'occasione della prossima mostra dedicata a Luca Signorelli sarà l'occasione per restituire alla pubblica fruizione questo suggestivo ambiente e sarà anche un modo per calarsi nel clima culturale dell'Orvieto di fine 400. Sarà anche interessante il confronto con l'impresa della Cappella Nova che proprio si compie negli stessi anni in cui viene realizzata questa sala. Lì c'è veramente il manifesto della cultura artistica e letteraria del pieno rinascimento con le fondamenta dei classici che fanno da base alle grandi figurazioni del giudizio universale, del finimondo. Qui c'è il riscontro di questa cultura in un ambito più comprensibile, il riscontro in una vicenda personale che è quella dell'arcidiacono Antonio Alberi, una figura di grande interesse soprattutto per i contatti che seppe stabilire con l'elite intellettuale dell'epoca. Alberi orvietano si forma presso lo studium perugino e qui entra in contatto con quelli che saranno i grandi umanisti di fine 400 in relazione proprio alla cerchia del Papa del momento, Papa Pio II, umanista anche egli, Enea Silvio Piccolomini. Da queste frequentazioni nasce per Alberi l'opportunità di seguire da vicino questa cerchia, questo ambiente. Diventa precettore e poi segretario del nipote del Papa, Francesco Todeschini Piccolomini, destinato ovviamente ad una brillante carriera, prima come Vescovo di Siena, poi come Vicario Pontificio e infine alla morte di Papa Alessandro VI Borgia, diventerà purse per un brevissimo periodo Papa egli stesso con il titolo di Pio III. Quindi questo ci fa comprendere come l'Alberi davvero riesca a raggiungere il centro del potere e a vivere tra Siena, Roma e diciamo proprio a contatto con la Corte Pontificia, vivere della cultura del momento. Il riscontro di tutto questo si ha nella sua vocazione di collezionista bibliofilo, raccoglie una grande quantità di volumi che vuole destinare alla cattedrale, quindi già in primo testamento nel 1482 dispone di donarli alla sacrestia della cattedrale. Successivamente concorda con l'opera del Duomo la costruzione e la realizzazione di questa biblioteca. Questa sala sarà appunto destinata ad accogliere 300 dei suoi più preziosi volumi, dobbiamo quindi immaginarcela arredata con le panche per la lettura, gli scaffali dove venivano assicurati con catene questi pregiati testi. L'ambiente viene realizzato appunto proprio alla fine del 400, i lavori iniziano nel 1498 e la struttura è ricavata proprio con un'addizione tra la tribuna della cattedrale e i palazzi papali più antichi. È un ambiente luminoso con quattro finestre e successivamente si pensa alla decorazione. Ovviamente il precedente più illustre è quello della libreria Piccolomini nel Duomo di Siena, precedente che appunto Alberi aveva potuto conoscere da vicino perché l'iniziativa di quella realizzazione si deve proprio al suo superiore, il cardinale vescovo Todeschini Piccolomini. Ecco, lì c'è il grande ciclo celebrativo di Pio II realizzato da Pinturicchio. Qui ovviamente ci caliamo in un contesto completamente diverso, però sono gli anni in cui è attivo il cantiere di Luca Signorelli che sta realizzando gli affreschi della Cappella di San Brizio, della Cappella Nova. E senz'altro questa osmosi artistica e culturale si riflette proprio in questa decorazione che è quasi esclusivamente dedicata ai ritratti degli autori degli interessi letterari, filosofici e storici di Antonio Alberi. E quindi nelle lunette e negli intradossi e stradossi delle finestre si ha una panoramica quasi topografica di quella che doveva essere la composizione di questa biblioteca. Ecco, con un repertorio senz'altro tratto dai grandi cicli degli uomini illustri, dei letterati, che caratterizzano proprio i cicli pittorici, tanti cicli pittorici di fine Quattrocento. E per il resto naturalmente l'ambiente si è anche mantenuto nelle decorazioni delle pareti con questi motivi geometrici che invece portano con sé tutto il repertorio dei codici miniati, dell'Arts Illuminandi, alcuni particolari come quello della piccola scimmia con gli occhiali che sorregge e mostra uno scritto di particolare acutezza. Ecco, in questo insieme nel tempo ovviamente subì modifiche e alterazioni in quanto nei secoli successivi, persa la destinazione originaria di libreria, questa sala fu destinata a Sacrestia e Cappella dei Vescovi proprio per la comunicazione che si poteva stabilire con i palazzi apostolici e quindi costituiva proprio il passaggio interno tra palazzi apostolici e cattedrale. Probabilmente per questa nuova destinazione gli affreschi furono coperti e ritrovati al di sotto dell'intonaco bianco alla fine dell'Ottocento in occasione della grande campagna di restauro che interessò tutta la cattedrale. Furono restaurati proprio con gusto anche revivalista e purista e sono giunti praticamente fino a noi proprio per l'ultimo nel più recente intervento di restauro completato nello scorso anno e curato dalla sovrintendenza dell'Umbria. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!